Wanyama col destro, calcia male va dentro Mané, vuole il movimento di Pellé altro movimento classico a venire incontro, poi Bertrand col tacco Pellé, intelligente per Bertrand Mané col destro, calcia quasi in caduta palla fuori qui Clark fa bene il suo mestiere rilancia praticamente a Kbolaor dall'altra parte a Kbolaor Aston Villa in vantaggio al 29esimo Gabi a Kbolaor terzo gol in campionato per lui settantesimo in Premier League può andare dentro col mancino ancora Tadic vuole Mané, palla sul destro a giro Mané, Kusan, che parata palla dentro per Fonte tiro cross con la punta del piede Kusan a metà strada tra un passaggio e una conclusione in porta intervento di Fonte e soprattutto quello con i piedi di Brad Kusan, grande istinto qui Tadic punta Sissoko, doppio passo, rientra sul mancino dentro per Pelle, sopra la traversa Bertrand prova ad andare via ancora Bertrand in mezzo arriva Klein Klein uno pari all'ottantunesimo inserimento da centro avanti per Nathaniel Klein che non sbaglia in un grandissimo momento di forma lo dimostra anche questa sera secondo gol in questo campionato per lui